Salve, sono Pedro Soro, sono direttore internazionale del reparto bevande vegetali della Riso Scotti. Nato a Valencia, il mio compito in questa azienda è sviluppare tutta la gamma di bevande vegetali. La Riso Scotti ha creato a livello internazionale una diversificazione relazionata, cercando di spingere la qualità del marco Riso Scotti con una diversificazione legata a quello che è il core business, cioè riso e prodotti a base di riso. Il mio compito è portare tutta questa linea, declinata a livello di bevande e in futuro anche altri prodotti su questa base, a livello internazionale. Chi è il consumatore di questa tipologia di prodotti? Gente che vuole compensare un'alimentazione standard con questa tipologia di prodotti, persone che cercano prodotti con una base vegetale piuttosto che di origine animale, e gente che vuole, come dicevo prima, avere questo mix all'interno della sua alimentazione. Parlando della nostra capacità produttiva, vi posso dire che tutto si fa internamente, cioè per cui abbiamo un controllo pieno della filiera, sia dal chicco di riso fino al confezionamento finale. Abbiamo una capacità produttiva di all'incirca 20 milioni di litri e abbiamo anche la possibilità e la capacità di confezionare, come dicevo prima, tutto internamente, per cui il processo qualitativo è preso che garantito.